Anche quest'oggi riesco a darvi un'altra anteprima nazionale, sto parlando dello Xiaomi Mi Color, non l'avete mai visto questo smartwatch all'interno di YouTube Italia, ci è arrivato negli scorsi giorni, grazie come sempre a mustman.net Beh ragazzi sono curioso come vuoi di andarlo a spacchettare, ci sarà come sempre la lingua cinese, dovrò utilizzare lo smartphone in lingua inglese forse per abilitarla anche sull'orologio Come abbiamo visto anche nell'ultimo smartwatch che ho recensito qua sul canale, il Mi Watch con Android Wear sempre di Xiaomi Vi ricordo anche che all'interno delle mie storie Instagram nei prossimi giorni regalerò a un fortunato di voi, uno scelto a caso, queste Redmi AirDots, quindi le cuffie che ho già recensito anche queste sul canale YouTube Quindi mi raccomando, AtWare86 seguitemi all'interno delle storie Instagram, seguitemi proprio su quel social perché ultimamente sto facendo dei regali dedicati a voi utenti Ragazzi datemi una mano, datemi veramente un supporto in questo video, ve lo chiedo cortesemente, spacchiamo il video di like Davvero arriviamo a tanti tanti like, fatemi una sorpresa e io vi ripagherò ovviamente con la stessa moneta regalandovi qualche cosina targato a Amazon Sì lo so, forse ho parlato anche troppo ma era doveroso, quindi adesso andiamo a vedere, andiamo a spacchettare questo Mi Watch Color Eccoci qua, quindi andiamo subito ad aprire questo box di vendita, vedete qui abbiamo lo smartwatch, cinturino in gomma, orologio sicuramente sportivo Poi capirete bene anche dalle caratteristiche, apriamo subito il box di vendita che mi ricorda molto quello dell'altro smartwatch che ho già recensito qua sul canale Vi dicevo prima sempre di Xiaomi, allora togliamo tutte le varie plastichine, via tutto ovviamente Ecco qua, sono riuscito ad aprire la confezione di vendita, libricino con istruzioni in lingua cinese per quanto riguarda l'orologio che ovviamente non ci interessa Mettiamo via il tutto, qui abbiamo il nostro smartwatch, eccolo qua, poi lo vedremo più nel dettaglio tra qualche istante Allora qua sotto ci dovrebbe essere il cavo di ricarica proprietario a due pin, sì eccolo qua, allora carica batterie proprietario con USB standard, due pin e magnetico Inizio a dirvi subito le mie prime impressioni, allora andiamo ad accendere il nostro smartwatch, molto leggero al tatto, sicuramente un prodotto che non pesa il polso, eccolo qua, logo Xiaomi Nella parte posteriore vedete abbiamo la sensoristica per quanto riguarda la misurazione del battito cardiaco, nonché l'ossigeno nel sangue Adesso dobbiamo andare a configurare il nostro prodotto, poi vedrete anche come fare Allora passo da 22 mm standard con attacco standard, quindi possiamo tranquillamente andare a cambiare i cinturini con qualsiasi disponibile all'interno del mercato Abbiamo due tasti fisici, eccoli qua, per interagire con il nostro orologio Qualche caratteristica, allora 46.2 x 53.3 x 11.4 mm di spessore Vi dicevo, un peso veramente contenuto Il display 1.39 pollici di tipo AMOLED, quindi si dovrebbe vedere bene sotto la luce diretta del sole 454 x 454 pixel Per quanto riguarda la batteria invece abbiamo una 420 mAh Con un uso basilare Xiaomi garantisce 22 giorni di autonomia Quindi un prodotto che strizza l'occhio a chi non ama mettere in carica sempre lo smartwatch Uso con GPS, quindi notifiche, barra GPS, 14 giorni Solamente GPS, quindi se azionate l'orologio per un'attività fisica Potete tenerlo attivo per 22 ore Quindi ragazzi, beh, 22 ore di attività fisica, non so cosa dovete fare, però tanta tanta roba Compatibile con la NFC, quindi sì Bluetooth 5.0, resistente a 5 atmosfere E come vi dicevo, vi misura battito cardiaco, nonché ossigeno nel sangue Questo non è un prodotto che per il momento Xiaomi importa in Italia Quindi, ahimè, me lo devo godere in lingua cinese, barra lingua inglese, spero E non è un prodotto che potete acquistare, come si suol dire, al Mi Store Oppure lo potete acquistare all'interno di Amazon e quant'altro È un prodotto che si importa attualmente solamente dalla Cina Maspen ce l'ha mandato come favore, come video unboxing per voi Onestamente non credo lo inserirà a catalogo Mi raccomando, se volete anche la recensione completa di questo prodotto In lingua inglese, se riesco, come vi ho detto, oppure in lingua cinese Fatemelo sapere con un bel like a questo video e un commento qua sotto Allora, vado subito ad aprire questa applicazione Che dovrebbe essere la stessa che mi ha permesso di abilitare lo Xiaomi Mi Watch Vediamo se funziona Andiamo ad aggiungere un orologio In questo caso, vedete, è compatibile con Mi Watch Color Lo trova, eccolo qua Andiamo a fare il pairing Avete sentito che l'orologio ha vibrato Quindi si sono sincronizzati Display molto molto bello Lo sto guardando in questo momento del Mi Watch Color Sono veramente interessato a provarlo, questo dispositivo Si dovrebbero essere abbinati i due device Teoricamente dovrebbe anche aggiornarmi il firmware Vediamo un attimo Andiamo avanti Ok Oramai io e la lingua cinese siamo due cose veramente complementari Allora, vedete, nuova versione del firmware Lo andiamo subito a scaricare Nel frattempo che lo smartwatch si riavvia Vedete, ho installato l'ultima versione software Vi faccio anche vedere come sta al polso il nostro orologio Allora, vi dicevo, cinturino in silicone Quindi gomma morbida Si può tranquillamente sostituire con un qualsiasi cinturino Vi dicevo, il passo è universale Ecco che si è avviato l'orologio Vedete, una forma molto classica Molto sportivo questo smartwatch Non lo consiglio ovviamente ad un pubblico femminile Ed ecco che si è riavviato il tutto Allora, intanto vi posso dire Come primo impatto Sicuramente il display è molto molto bello Si vede al momento bene Per quanto riguarda i menu Mi sembrano simili, se non identici, esatto A quelli dello Xiaomi Mi Watch All'interno dell'orologio, vedete Abbiamo la possibilità di cambiare le watch face Ce ne sono veramente di carine Proprio all'interno dell'orologio Poi con questo tasto Quindi il tasto inferiore Possiamo andare a far partire un'attività fisica Vedete che l'orologio di base ha molte attività Ora quello proverò anche durante una sessione di running Per voi Quindi andrò a correre per voi Comunque ci sono davvero molte attività fisiche Tornando indietro Vi dicevo, non c'è niente che Vada a cambiare la lingua di sistema Almeno in lingua inglese Vi dicevo, è compatibile con l'NFC E con i pagamenti contactless Ora questo per quanto riguarda la Cina Poi per quanto riguarda l'Italia Staremo a vedere versioni firmware future Vedremo se Xiaomi Lo importerà come vi ho detto prima In Italia o meno Adesso inizierò comunque a mettermelo al polso Inizierò a testarlo Display sotto il sole Display interna La recezione o meno delle notifiche Cercherò di impostare la lingua inglese Se mi sarà possibile o meno Poi vi farò sapere come sempre All'interno della recensione completa Vi dicevo se la volete o no Perché capisco che non sia un prodotto Dedicato al momento al mercato italiano E magari a molti di voi potrebbe non interessare Come sempre ragazzi Vi invito a condividere questo video Iscrivervi al canale YouTube Se ancora non l'aveste fatto È importantissimo E in particolar modo di schiacciare il tasto like Per supportare tutte queste nuove belle anteprime per voi Un saluto da parte di tutto lo staff di EvoSmart.it E come sempre noi ci vediamo Nei prossimi video Grazie a tutti Grazie a tutti